Ciao ragazzi, oggi nuova nail art, non è questa qua, il tutorial di questa nail art l'ho realizzato però non è che mi convince molto, oggi vedendola alla luce del sole non è che mi è piaciuta molto, quindi se vi piace, se vi può interessare scrivete qua sotto e ve lo metto comunque l'ho realizzato, oggi andremo a realizzare un tutorial di una nail art coordinata tra virgolette con un paio di fuso che ho comprato proprio oggi, che poi vi metterò la foto così mi anche se vi piacciono e volevo realizzare appunto questa nail art in coordinato, per farla avremo bisogno di questo smalto qui, questo qui, del color play della Debbie, che è il numero 175 ed è un verde smeraldo, forse non si riesce ad apprezzare, però forse qualcosina si vedete, vabbè, lo vedrete bene sull'unghia. E il secondo smalto che andremo ad utilizzare è lo smalto rimasto traumatizzato, sì vabbè perché prendendo questo smaltino qua non mi ero accorta che era aperto e insomma mi è volato dappertutto, vabbè lasciamo stare. Comunque ho questo smaltino qui che è, questa è la marca, ho idea di come si pronunci, magari se la videocamera mette a fuoco, no, niente, vabbè spero si legga comunque, e in caso è il numero 020, non mettere a fuoco no, no, vabbè comunque fidatevi. Quindi adesso vado a togliere questo smalto qui e ci vediamo tra poco, tra poco o dopo? Vabbè ho fatto l'insieme, ci vediamo dopo, ciao! Buongiorno Allora ragazzi ho finito di mettere lo smalto a tutte e due le mani Ho fatto due passate ovviamente per rendere il colore molto più intenso E come vedete io prima forse non l'ho descritto bene Perché in realtà più che essere un verde smeraldo è un verde petrolio Qui purtroppo non si riesce ad apprezzare bene Ma comunque farò una foto, penso al sole, dopo esco e vi faccio una foto al sole E ve la metto E niente, come potete vedere io non metto lo smalto completamente attaccato alla pelle Sia dei lati che sopra In quanto non avendo le unghie proprio lunghe 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 Ecco, non avendo le dita fine 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 Preferisco metterlo così in modo che sembra che sfini un pochino l'unghia Piuttosto invece che metterlo su tutta tutta l'unghia E la rende un pochino più tozza Insomma, in quel caso va meglio perché ha le dita molto più affusolate Ecco, io ho dei salsicciotti quindi non mi sembra il caso E adesso quindi andremo ad utilizzare questo smaltino qui che abbiamo visto prima Che vi ho fatto vedere prima E andremo a metterlo Io ho utilizzato queste qua Che sono, ecco, le bustine dove si mettono dentro i documenti E sono perfette per questo tipo di lavoro Perché non assorbono il colore Sono ancora meglio dei fogli di carta Non assorbono il colore E proteggono, insomma, la superficie Poi sono belle lisce, insomma, anche al tatto è bello tenerle Insomma, per proteggere anche il tavolo E... E niente Tutto qui Vi... Adesso aspetto che si finisce un pochino di asciugare E poi iniziamo la nail art A tra poco Ok, ragazzi Il mio smalto si è più o meno asciugato Sì, lo trovo abbastanza asciutto E sono andata a prendere quello che ci servirà per questa nail art Ossia il solito stuzzicadenti Sempre il solito che uso io Insomma, un attrezzo molto professionale che si usa per fare la nail art Comunque adesso vado a prendere il... Però fa fashion questa macchietta qua Comunque vado a prendere lo smalto E ne vado a mettere un po' sulla plastichina Giusto lo stretto necessario Ecco Ecco qua Adesso cosa andremo a fare noi? Andremo a fare delle roselline Delle mini roselline Su Un'unghia Insomma, voi potete farla dove volete Io faccio su questo dito qua Ma voi potete farla ovunque, insomma Non so se farla su questo o questo Forse la faccio su questo Cambiate idea al momento Comunque E andiamo a fare delle roselline Quindi Prendiamo il colore Intingiamo bene bene Mescoliamo anche un po' E andiamo praticamente A fare una lunetta Ecco qua Così E adesso attorno a questa Andremo a fare altre piccole lunette Ecco Non vi aspettate Dalla mia Arridabilità Qualcosa di decente Perché Insomma Dovrebbe assomigliare a una rosellina Teoricamente Adesso proviamo a farla assomigliare un po' di più Diciamo che questi sono tutorial Per delle incapaci Come me Ecco qua Io direi che Va bene Ora ve la faccio vedere meglio Questa È la rosellina L'ho fatta Piuttosto in alto E non è proprio centrata Vedete Non è proprio Al centro Comunque voi potete poi posizionarvela Come più preferite Sulle altre unghie Io non andrei a fare nulla Magari qui vado a fare Qualche puntino Giusto per riprendere Lo faremo in basso Stavolta Ovviamente non copriremo Tutta l'unghia Perché ecco Forse Sarebbe Un po' troppo eccessivo Ecco qua E questo è il risultato Questo qui Poi ovvio Voi vi potete sbizzarrire Mettendo insomma Che ne so La rosellina Alla fine Insomma È molto bella Mettere anche la rosellina Qui insomma Alla fine dell'unghia In modo che fa angolo Oppure fare Altri piccoli fiorellini Oppure fare tante roselline Voi potete sbizzarrirvi Come preferite Ecco Io l'ho fatta piuttosto in alto Perché Come ripeto Non ho l'unghia Né lunga Né spessa Quindi Volendola fare Anche Angolata Molto molto Angolata Insomma Risulterebbe difficile Perché Ho l'unghia Abbastanza stretta Però ecco Si può fare benissimo Qui alla fine Angolata Proprio farla proprio al centro Non risulterebbe Un bel lavoro Perché Renderebbe ancora Più tozza l'unghia Comunque poi È tutto A vostro gusto Lo farò anche Su Quest'altra mano Magari su questo dito Così vi faccio vedere Anche come viene Su questo dito E E poi vi posterò Le Le foto Nel video Intanto A proposito di qua sotto Vi volevo dire Che se avete Qualsiasi domanda Anche richieste di tutorial Insomma Qualsiasi cosa Potete scriverle Qua sotto Mi scrivete un commentino Qualsiasi cosa E Farò il possibile Insomma Per Per rispondervi E per Realizzare Magari tutorial Richiesti E altro Poi Vi Vi ricordo Dello Smalto Insomma Del tutorial Dello smalto Se lo volete Insomma Basta richiedere E infine Se volete Se vi piacciono i miei video Insomma Ora sto un pochino Ampliando di più Il canale Basterà Cliccare su iscriviti Insomma Sempre qui Da qualche parte Lo sapete ormai E quindi Niente Finito Questa è la nail art E vabbè Poi Foto Lo sapete Insomma Io vi mando un grosso bacio E vi aspetto Al prossimo tutorial Ciao Ciao